Il Salone quest'anno parla soprattutto di investimenti responsabili, inclusivi e ossequiosi di quelli che sono dei temi importantissimi non solo per il risparmio ma per la vita di tutti noi e quindi rispetto dell'ambiente, diversità di genere, governance in modo particolare. Noi soprattutto sulla governance da tanti anni siamo molto attenti nelle aziende in cui investiamo perché una buona governance a nostro giudizio è indispensabile anche per garantire nel lungo termine una corretta gestione aziendale e quindi un giusto ritorno limitando molto i rischi del nostro investimento. Sì, siamo arrivati al decimo compleanno del Salone del Risparmio e anno dopo anno direi è diventato sempre più importante e sempre più coinvolgente, anzi diciamo inclusivo usando uno dei termini guida del Salone di quest'anno. L'Italia è un paese che ha il maggior tasso di risparmio al mondo o il secondo e quindi mi sembra corretto che l'industria, cioè noi asset manager, diamo vita una volta all'anno a un evento importante per fare il punto, capire dove sono i trend mondiali, i trend europei, i trend italiani e quindi dove sta andando la nostra industria per cercare di capire, di dare ai nostri clienti, ai nostri investitori sempre le migliori soluzioni e non rimanere indietro. Quest'anno a questo Salone noi di Zenit SGR un po' sulla falsariga degli scorsi anni poniamo particolare attenzione a uno degli aspetti che ci sta più a cuore e quindi diciamo all'investimento nell'economia reale italiana. E quindi l'investimento nelle nostre aziende, soprattutto nelle piccole e medie capitalizzazioni e quest'anno in modo molto molto importante sia sul fronte debito, quindi emissioni obbligazionarie, che sul fronte azionario anche a società non quotate e quindi a quello che si chiama il private capital, il private debt o il private equity. Noi crediamo assolutamente che il nostro tessuto produttivo delle medie e piccole aziende italiane sia un'eccellenza a livello mondiale, di sicuro sono delle eccellenze calate in un contesto paese che non le aiuta e quindi noi cerchiamo come portatori di capitale, come portatori di idee e come dicevo prima di governance di accompagnare queste aziende per che l'imprenditore possa affermarsi nella sua bravura. Il settore del risparmio gestito da sempre è un continuo divenire di nuove regole, di nuovi regolamenti, vorrei dire persino troppi perché ci sono i regolamenti ormai mondiali, le direttive dell'ONU, l'Europa, l'Italia, ognuno ne aggiunge un pezzettino, quindi sta diventando veramente molto impegnativo. Questa è una grossa sfida perché chiaramente una parte rilevante dei nostri sforzi, delle nostre attenzioni, dei nostri investimenti sono per seguire l'evoluzione e adeguarci correttamente all'evoluzione del quadro normativo. Questo inevitabilmente sta portando a un innalzare sempre un po' di più il livello di professionalità ma anche di dimensioni degli operatori e quindi quello a cui stiamo assistendo sono delle operazioni di aggregazione di operatori magari di nicchia in modo da mettere a fattore comune tutta una serie di attività, chiamiamole più amministrative, e avere più risorse per investire nell'attività primaria che è poi quella di fare dei buoni investimenti e di dare delle buone performance. Grazie.